Mary Jane, Lord of my Mary Jane Rieccoci in studio, siamo con Don Luigi Sciotti Lei spesso ha detto che la lotta alla mafia si fa a Roma Che cosa non si è fatto, per esempio sulla legge anticorruzione lei ha detto che bisogna fare di più Che cosa si è fatto e che cosa non si è fatto? Certo, la lotta, chiamiamola così Ma soprattutto non è tanto essere contro Ma essere percorso, costruire dei percorsi La si fa nei territori, con le politiche sociali Con i servizi, con il lavoro Sostegno alle famiglie Creando dei percorsi di cambiamento, di sviluppo Certo, poi bisogna anche non dimenticarci Che le radici della mafia in Italia Sono al sud, lì è nata Cosa Nostra Lì è nata Andrangheta Al sud la camorra è nata sostanzialmente in Campania Però si stanno allargando anche al nord, anche qui in Toscana Le radici sono lì però Di questa pianta che si chiama mafia I rami frutti li si raccolgono al nord E quindi l'impegno sui territori Con il convegimento delle scuole Delle varie realtà Di vari contesti Dentro un grande progetto Fatto con grande stima e riconoscenza Per il lavoro delle forze di polizia Il lavoro della magistratura Che non dobbiamo mai dimenticare Però c'è una risposta sociale, etica, culturale Educativa dall'altra parte Ma io dico sempre che poi la vera lotta alla mafia Si fa in Parlamento con le leggi giuste Le leggi giuste, gli interventi giusti Abbiamo visto negli ultimi tempi Tante parole Devo dare atto al governo tecnico Che ha cercato di presentare una legge pulita Trasparente Come l'Europa ci chiedeva dal 1999 Con la Commissione di Tasburgo Di mettere i codici penali In modo molto categorico Tutti i reati contro la corruzione Però di fatto poi Quello che è passato Perché poi le leggi vanno in commissione Vanno in aula E' una cosa che veramente E' monca E' insufficiente Certo un segnale politico Rispetto a prima Ma tutti ormai riconoscono Che quel meccanismo lì Non affronta come dovrebbe affrontare Fino in fondo Così la legge sul gioco d'azzardo Anche qui un bravo ministro Presentato secondo tutti i criteri Anche fatto di ascolto Le varie realtà Impegnate nella dimensione educativa E poi quello che è passato E' ancora una volta E' un frutto di grandi compromessi Perché ancora una volta Ha vinto le lobby E i poteri forti E proprio sul gioco d'azzardo Nella parte Ad esempio delle macchinette Le mafie fanno circa 10 miliardi di euro Di loro provvigioni Nella forma più negativa Possibile che ci sia Allora la lotta alla mafia Bisogna di leggi importanti Anche sulla confisca Ci vogliono dei meccanismi in più Per sbloccare delle situazioni Abbiamo bisogno di sbloccare I beni confiscati Che sono ancora sotto ipoteca bancaria Le banche rivendicano le ipoteche Ma noi da 17 anni Che chiediamo alla politica Al mondo bancario Trovare una soluzione Per restituire questi beni Che sono tantissimi Che non possono essere usati Ricordiamo anche il lavoro Cioè il lavoro che fate Nei beni confiscati Dove producete vino Olio La pasta Poi vengono rivenduti E' anche un modo Per ridare una speranza Certo Devo dire che c'è un'agenzia Da tre anni Fatta dal Da quale c'era Ministro Maroni Un'agenzia molto importante Nel nostro paese C'è un bravissimo Commissario di questa agenzia Che è il prefetto Caruso Stanno lavorando molto Ma lui stesso ha denunciato Alcune zone d'ombra Alcuni insufficienti della legge Aspetti burocratici Che rallentano Meccanismi insufficienti E faccio un esempio Su 1663 aziende confiscate Solo 35 sono sopravvissute Nell'arco di questi anni E dei beni 11.000 I beni immobili confiscati 3.500 Non possono essere usati Perché O per problemi Da sbloccare Di vario ordine Ma ha una grande effetto Perché è sotto ipoteca Delle banche Le banche dicono Ho pagato C'è l'ipoteca I comuni Non sono in grado Le associazioni A cui la legge Stabilisce l'uso sociale Non hanno i mezzi Quindi è un meccanismo Per Allora c'è da migliorare Noi siamo qui Per chiederci Che cosa fare di più Perché si possa Veramente migliorare E migliorare bene Lei incontra tanti giovani Nell'ospensione di film Che abbiamo sentito prima Su Paolo Borsellino A un certo punto dice Proprio i giovani Vanno coinvolti Sono adatti a sentire subito La bellezza Del fresco profumo Di libertà Che per rifiutare Il puzzo Del compromesso morale Delle indifferenze Mi preoccupa un pochettino Così trasformato E per rifiutare A trasformare Le paure In speranze Perché se la politica Non ha aiuto A trasformare Le paure in speranze È una politica Senza speranza Abbiamo bisogno Di speranze In questo momento Di cose concrete Di bene parole Di più parti Speranza è anche il coraggio Di poter Sperare di cambiare le cose Il coraggio Che qualcosa Non basta dire dei no Io lo dico sempre I ragazzi Non basta dire Non la mafia Non l'illegalità Non la corruzione Non la povertà Non le ingiustizie Ma dobbiamo trasformare Questo no In un noi E il modo Di trasformare Il no In noi È proprio L'assunzione Di una maggiore responsabilità È quello che noi Chiediamo allo Stato Alle istituzioni Alle amministrazioni Ma anche Quello che dobbiamo Chiedere veramente A ciascuno di noi Il cambiamento Bisogna di ciascuno Di noi Di ciascuno Di noi Non chiediamolo Solo agli altri Ma anche di piccoli gesti Ogni giorno La legalità La si È fatta anche Di piccoli no E di Di quotidianità Che comincia Proprio dalle piccole cose Dall'assunzione Della nostra Maggiore responsabilità Don Ciotti Volevo chiederle una cosa Come ha letto Le dimissioni del Papa? Beh è stato un atto Di grande umiltà Di grande generosità Io l'ho molto 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 apprezzato Un uomo Che a un certo punto Poi nel suo alto ruolo Nella chiesa E quindi l'importanza Anche della sua figura Nel mondo Che dice Non ce la faccio Non con le forze Un atto di grande umiltà Perché riconoscere I propri limiti È un segno Di grande libertà Di grande autenticità Primo Secondo Avere detto Che lo faccio Per amore Per la chiesa Un atto d'amore Che lui ha fatto Terzo E questo mi ha veramente Profondamente colpito Quando ho detto Chiedo perdono Per i miei tanti difetti Non è così scontato Non è così semplice E allora Veramente Benedetto XVI Che tra l'altro Non posso dimenticare Che proprio un giorno Nella sua visita Pastorale All'interno di Sicilia Aveva detto Mafia strada Di morte E lui si era battuto Anche con degli interventi Sul tema Della corruzione E dell'usura In particolare E quindi Stima e riconoscenza Per questo gesto Di grande forza E di grande umiltà E ora mi auguro Che su questa scia Ci sia veramente Anche la voglia Di un cambiamento Perché lui ha dato Un segno di volontà Di un cambiamento Di cui anche la chiesa Ne ha tanto 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 bisogno E anche nella chiesa Credo Bisogna portare avanti Un processo di purificazione Da qualunque forma Di potere Economico Politico Abbiamo bisogno Di una chiesa più libera Di una chiesa Più povera Perché poi Dio si è fatto uomo Entrando nella storia Dell'uomo Nell'assoluta Sobrietà E povertà Una chiesa più povera Ad esempio Benetta Banca Ior Diventi Tutta quella cifra Vada Ad esempio La banca etica Che in Italia Fa portare avanti Dei progetti Perché non devi Legarti le mani Con certi meccanismi E poi soprattutto Abbiamo bisogno Di una chiesa profetica Perché la chiesa O è profetica Non è chiesa La profezia È molto importante Abbiamo visto Che arranca un po' La chiesa È un po' distante E soprattutto Deve la chiesa Ascoltare molto La voce La voce E quel bisogno di vita Delle persone Allora Tutta un pochettino Sul problema Della sessualità Della bioetica Il problema Della dimensione Di divorziati C'è tutta una Grande riflessione Che tra l'altro Prima di andarsene In una meravigliosa Meravigliosa intervista Carlo Maria Martini Arcivesco di Milano Con molta umiltà Ma anche con un atto Di grande amore Per la chiesa Lui aveva Sottolineato Con forza Ponendo degli interrogativi Tutto questo A me piace Ricordare lui Non è un caso I libri che mi sto leggendo Sono questa parola Queste riflessioni Questo saldare la terra Con il cielo Il nostro tempo È quasi terminato Però un'ultima domanda Arriverà un giorno In cui le mafie La mafia Sarà sconfitta Se si va avanti così No Perché O c'è una rivolta Delle coscienze Ognuno di noi Prende coscienza Che il cambiamento Chieda a ciascuno di noi Anche di mettersi in gioco Però bisogna Che la politica Faccia veramente La sua parte Che la risposta Sia di politiche Sociali Culturali Che si mette in grado La magistratura Le forze di polizia Di fare la loro parte Con maggiori strumenti Lo dico con stima E riconoscenza Il cambiamento Però bisogna Che questi milioni Di italiani Prendono coscienza Che c'è bisogno Di una rivolta Delle nostre coscienze Perché da 400 anni Che in Italia Parliamo di Camorra 200 anni Che parliamo Di Cosa Nostra Ed è soprattutto Oltre 100 anni Che parliamo Dell'Andranghe Da Calabrese E Paolo Borsellino Con cui abbiamo aperto Nel giorno Del massimo successo Della lotta Alle mafie Che lui aveva vissuto Il maxiprocesso Quando tutti sembravano Una grande svolta Di Cosa Nostra Disse Profeticamente Perniciose Illusioni Infatti Don Luigi Ciotti Grazie Non solo per aver accettato Il nostro invito Ma grazie per ricordarci Ogni giorno Qual è il nostro impegno Non dimenticarci Grazie davvero Grazie a voi Sabato 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 Tutti Che sarebbe incontrarvi Per le vie di Firenze Ci devono essere tutti Perché è un momento importante Per Firenze È un momento per Per l'Italia Per l'Italia tutto Anche per Soprattutto per chi Sta soffrendo Perché sono lutti Che non passeranno mai Sono dolori Che rimangono sempre Per queste famiglie Noi ci rivediamo Tornata settimana Grazie per averci seguito